Sciacca piange la 33esima vittima del covid, aveva 57 anni, la paziente è deceduta ieri all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera dove era stata ricoverata da tempo, ancorché negativizzata, i possumi del virus sono stati devastanti. Sicilia da oggi in zona arancione ma non cambia niente, probabilmente il sistema delle colorazioni delle regioni verrà abolito, intanto sul fronte scolastico oggi sono tornati in classe anche gli studenti di Santo Stefano Quisquina. Pochi giorni dopo il cordone finito in Lombardia è partita con destinazione la Francia, la nuova sacca di cellule staminali conservate alla banca del cordone ombelicale di Sciacca, cellule che cureranno una donna affetta da leucemia acuta. Il comune di Sciacca continua a faticare nella lotta contro i randagismi, è andata deserta la gara da 245 mila euro per la cattura e custodia di cani e gatti, vicenda che rappresenta ancora una ferita aperta nella storia cittadina recente. Due fratelli tedeschi lavoreranno a Sciacca per 14 giorni in Smart Working, un progetto che si inquadra nelle ultime iniziative del Museo Diffuso dei Cinque Sensi che punta su questa opportunità per valorizzare ulteriormente il territorio. Sport, calcio, lo Sciacca batte a sorpresa, l'Acragas conquista tre punti preziosi per il prosieguo del proprio campionato. 1-0 il risultato finale in favore dei ragazzi di Crivello, corretta e decisiva di Sant'Angelo nel secondo tempo. Ben trovati anche oggi al nostro telegiornale, c'è stato un altro decesso per Covid nelle ultime ore nella città di Sciacca. La nuova vittima è una giovane donna di 57 anni, deceduta ieri al Covid Hospital di Ribera, dove era ricoverata da diverse settimane. La donna che non era vaccinata è morta ieri nel reparto di terapia intensiva a causa delle complicanze causate dal Covid. Sale a 33 il numero dei decessi a Sciacca dall'inizio della pandemia. Sicilia da oggi in zona arancione, ma nella vita di tutti i giorni non cambia praticamente nulla. Le restrizioni riguardano solo i non vaccinati e comunque molte delle limitazioni in cui saranno soggetti erano già in vigore e non tenevano più conto del cambio di colore. Sistema dei colori che intanto potrebbe essere al capolinea. Si è fatta pressante la richiesta della Regione al Governo nazionale di includere nel dato dei ricoveri solo i pazienti che hanno sviluppato la malattia, escludendo gli asintomatici che ancorché positivi al Covid sono ricoverati in ospedale per altre patologie. Ma sentiamo il servizio. La Sicilia è da oggi in zona arancione, ma come più volte ripetuto nella vita di tutti i giorni non cambia praticamente nulla. Le novità infatti riguardano principalmente chi non ha il Super Green Pass, mentre coloro che hanno la certificazione rafforzata non subiscono limitazioni. Di fatto non cambia nulla per vaccinati e guariti, ma cambia solo per i non vaccinati. Senza Green Pass sono consentiti gli spostamenti verso altri comuni della stessa Regione o di altre Regioni solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non disponibili nel proprio Comune. Nei negozi che vendono beni o servizi alla persona possono accedere tutti i cittadini, a prescindere se abbiano meno il Green Pass. Anche l'accesso agli uffici pubblici per usufruire dei servizi è sempre consentito. L'accesso ai centri commerciali invece è consentito a tutti nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi è consentito solo a chi ha il Super Green Pass. I bar e i ristoranti sono aperti solo a chi ha la certificazione rafforzata, sia per la consumazione al banco, sia per quella al tavolo, all'aperto e al chiuso. Chi non possiede il Super Green Pass non potrà bere dunque un caffè al bar. L'attività sportiva all'aperto, anche in aree attrezzate e parchi pubblici, è consentita a tutti, mentre al chiuso è consentita solo a vaccinati o guariti dal Covid, quindi a chi è in possesso del Super Green Pass. Fin qui le limitazioni della zona arancione, ma ci sono invece delle novità che riguardano i parametri per il passaggio nelle varie zone di rischio, che pare stiano per essere rivoluzionati, al punto che i cambi di colore delle regioni potrebbero diventare meno frequenti. In ogni caso, la zona rossa, che è l'unica che porta restrizioni vere, diventerebbe molto lontana se arriverà all'ok al parziale riconteggio dei ricoveri con i nuovi parametri e quella in corso potrebbe essere la settimana decisiva. In particolare, negli ultimi giorni è diventata sempre più pressante la richiesta dei governatori di una revisione del sistema dei colori con l'esclusione degli asintomatici dal conteggio dei ricoverati Covid, oltre ad uno snellimento generale delle procedure. Un incontro con il governo c'è già stato e l'idea è quella di modificare significativamente il sistema, valutando i casi Covid soltanto tra i pazienti ricoverati che hanno sviluppato la malattia e dunque senza includere gli asintomatici ricoverati per altre patologie. E questa, stando a quanto si apprende, una delle ipotesi emerse al tavolo cui hanno partecipato tecnici del Ministero della Salute e quelli delle regioni. Se questa linea dovesse passare, cambierebbe radicalmente il quadro e il riconteggio delle percentuali di occupazione dei posti letto negli ospedali scenderebbe drasticamente. Se anche sulla carta i colori resteranno, i cambi di colore delle regioni diventerebbero molto meno frequenti, anche perché siamo sul plateau dell'ondata Omicron e forse il picco e perfino già alle spalle. Insomma, il sistema delle zone dei colori potrebbe essere al capolinea, superato ormai dagli eventi. È solo la zona rossa quella in cui sono ancora eventualmente vigenti le regole dell'inverno 2020-2021 con chiusure, coprifuoco e limitazioni agli spostamenti per tutti, anche se si è vaccinati. A Santo Stefano di Quisquina stamattina gli studenti sono tornati in classe, non erano ancora rientrati dopo le vacanze e natalizie. Il sindaco Francesco Cacciatore è stato tra i più determinati in tal senso e ha riaperto gli edifici scolastici dopo che ieri è stato effettuato uno screening e sono stati collocati appositi impianti di areazione. Ma ne parliamo nel servizio. Una giornata dedicata allo screening della popolazione scolastica. Ieri a Santo Stefano Quisquina il drive-in organizzato dal Comune in vista della ripresa dell'attività didattica in presenza è stato allestito alla periferia del Paese e si è rivolto a tutta la popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo Maestro Panepinto. Sono stati 272 i tamponi antigenici rapidi somministrati, di questi 9 hanno dato esito positivo. Il sindaco Cacciatore si è detto molto soddisfatto dell'alta partecipazione, essendo un test su base volontaria, determinante però per una ripresa dell'attività didattica in presenza, oggi con maggiore tranquillità. Gli alunni della scuola dell'infanzia primaria e media di Santo Stefano Quisquina sono stati gli ultimi anche in provincia di Egrigento a tornare stamattina in classe dopo le prolungate vacanze natalizie. Prima c'era stata la chiusura legata alla zona arancione e poi, quando era stato chiarito dalla regione che solamente in zona rossa si può far ricorso alla DAD, il sindaco aveva firmato un'ordinanza di disinfestazione ritenendo necessario uno screening prima del ritorno in classe. Non solo i tamponi rapidi, in realtà a Santo Stefano Quisquina sono stati acquistati e collocati nei tre plessi scolastici anche in pianti di aereazione, grazie ai fondi stanziati per le scuole nell'ambito dell'emergenza Covid. E a proposito di emergenza sanitaria, la situazione è migliorata negli ultimi giorni con la notifica di un centinaio di guarigioni. Adesso, dichiara il sindaco Cacciatore, siamo sotto i 100 attuali positivi. Cambiamo argomento. È partita questa mattina dalla banca del cordone umbilicale di Sciacca un'altra sacca di sangue cordonale. Destinazione è la Francia, dove verrà utilizzata per salvare una donna affetta dall'eucemia acuta. 20 giorni fa una unità di sangue cordonale ha salvato in Lombardia una paziente affetta anche lei dall'eucemia. Prosegue dunque il prezioso lavoro della struttura saccense per ridare una speranza di vita a tante persone malate. Sentiamo. A distanza di 20 giorni, è partita questa mattina dalla banca del cordone umbilicale dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca un'altra sacca di sangue cordonale, questa volta destinata alla Francia per una nuova speranza di vita. Si tratta del 32esimo trapianto per la struttura saccense che fa seguito a quello del 4 gennaio scorso quando una unità era stata inviata ad un centro trapianti della Lombardia per una paziente affetta dall'eucemia acuta. Anche questa ulteriore sacca partita stamattina per la Francia servirà per una donna affetta dall'eucemia acuta. Nel novembre 2020, come si ricorderà, un'altra sacca era stata ceduta in favore di un piccolo paziente ungherese di appena due anni poi guarito dalla leucemia grazie al trattamento. La banca del cordone umbilicale del presidio ospedaliero Saccenze diretta dal dottore Pasquale Gallerano e fondata dal dottore Lillo Ciaccio così come tutte le banche cordonali in Italia custodisce le staminali destinate alla rigenerazione dei globuli bianchi, rossi e delle piastrine. Il sangue cordonale, oltre alla capacità di rigenerare un midollo sano, ha dimostrato doti rigenerative, riparative dei tessuti e di facilitazione delle guarigioni di lesioni cutane e mucose. Tutte le unità ritirate dai punti nascite non idonee per trapianto vengono convertite dagli operatori della struttura Saccenze nella produzione di farmaci, quali gli emocomponenti ad uso non trasfusionale. Il comune di Sciacca continua a faticare, a fronteggiare e risolvere l'emergenza al randagismo, ad aggravare alla situazione l'ultimo bando da 245 mila euro per la cattura, la custodia, ha dato deserto il punto in questo servizio. Il comune di Sciacca continua a barcamenarsi faticosamente nel tentativo di dare una risposta soddisfacente nei confronti del fenomeno del randagismo, che evidentemente continua ad essere uno dei problemi più difficili da risolvere. È andata deserta il mese scorso la gara per l'affidamento del servizio di cattura, trasporto, ricovero, custodia, cura e mantenimento di cani e gatti randaggi vaganti rinvenuti nel territorio comunale. Un incarico da 245 mila euro che tuttavia al momento non ha voluto nessuno e il comune adesso è costretto a riprovarci. Stavolta però ha deciso di dare maggiore pubblicità al bando disponendo la pubblicazione a pagamento su quattro quotidiani, una prassi normalissima. Ma che una municipalità come quella di Sciacca che economicamente non sta attraversando una fase florida sia costretta a spendere 245 mila euro in un anno per fronteggiare un fenomeno come quello del randagismo che naturalmente dal punto di vista dei problemi riguarda più i cani che i gatti è una cosa che fa riflettere. Ma il problema c'è e continua ad essere di dimensioni importanti. Dai dati del distretto veterinario di Sciacca ci sarebbero almeno 300 cani vaganti sul territorio anche se recentemente ha subito un'importante svolta alla questione delle microcippature. Questo è successo dopo l'intervento della Lega Antivivisezione che ha organizzato le campagne di registrazione alla nagrafe canina ottenendo dalle autorità il via libera anche per i cani adulti. Rimane ancora basso il numero di cani sottoposti a sterilizzazione appena una quarantina eppure il randagismo viene alimentato anche dal fenomeno di quei cani padronali non sterilizzati i quali lasciati liberi durante il giorno si accoppiano e si riproducono una questione che va affrontata anche attraverso vere e proprie campagne di educazione che mettono finalmente da parte eccessi ed estremismi sia dall'uno che dall'altro versante perché che avvelenare i cani sia una pratica odiosa non ci dovrebbe nemmeno essere bisogno di dirlo e sappiamo bene anche sul piano del gravissimo danno di immagine nei confronti della città di Sciacca e delle sue persone per bene causato dai responsabili delle polpette avvelenate di Muciare le ferite di quello che è successo quattro anni fa sono ancora aperte il dibattito sul tema va recuperato è gestito però con toni giusti e sicuramente questo sarà un argomento della stessa prossima campagna elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Sciacca Una città è stato di abbandono è stato così l'opposizione consigliare rispetto ai primi 15 mesi di amministrazione da parte del sindaco Ruvolo intanto la polemica politica sulla questione dell'aumento della Tari non si placa e oggi l'ex sindaco Carmelo Pace dice basta guardare al passato il sindaco si assuma la responsabilità della scelta che opera il servizio l'opposizione sferra un nuovo attacco all'amministrazione guidata da Matteo Ruvolo e parla di una città in stato di abbandono intanto non si placano le polemiche sull'aumento della Tari che il sindaco Ruvolo ha legato alla necessità di far fronte al debito accumulato dal comune negli anni 2018, 2019 e 2020 per un servizio che è costato più di quello che era stato preventivato per ciascuna annualità sulla vicenda interviene oggi l'ex sindaco Carmelo Pace che sostanzialmente dice basta guardare al passato e tirare in ballo la mia amministrazione il sindaco si assuma la responsabilità delle scelte che opera ognuno quando amministra deve assumersi le responsabilità e soprattutto io da sindaco decidevo io le cose da fare e sicuramente non facevo decidere ai tecnici e ne ricordo che nell'anno del covid arrivarono a tutti i comuni dei ristori per l'abbattimento della Tari il mio dirigente non voleva fare l'abbattimento della Tari ai supermercati, alla maicelleria e ai fruttivendoli perché dicevano che avevano guadagnato troppo durante il periodo di pandemia e io ho detto come? cioè ci arrivano i soldi dal governo e noi li dobbiamo rimandare indietro tant'è che per scelta mia della mia maggioranza non abbiamo fatto pagare la Tari a tutti gli esercizi commerciali e addirittura a quelli che sono rimasti aperti che secondo i tecnici invece avevano fatto tanti soldi io invece dico avevano offerto un servizio in un momento particolare abbiamo fatto l'abbattimento del 50% e quindi le rispondo se la politica non decide e a decidere sono i tecnici ci ritroviamo ad un aumento della Tari spropositato guarda io prima di venire a fare un'intervista ho fatto una ricerca normalmente che pure lei può fare il comune di Ribera a questo esercizio commerciale ha applicato una tariffa di 10 euro al metro quadro non c'è un comune nella provincia di Agrigento che ha applicato questa tariffa si va da 1 euro a 3 euro tra le più alte c'è anche Sciacca ma che fa ha applicato una tariffa di 7 euro il comune di Ribera 10 euro e dico candidamente che se io fossi stato sindaco avrei convinto i miei tecnici a non applicare questa tariffa e a proposito di scostamento quindi la sua fu una scelta politica quella di non aumentare in quel momento la tariffa pure con lo scostamento assolutamente sì questo debito prima o poi doveva essere pagato quindi comunque era inevitabile l'aumento ora ripeto quando a decidere non sono i tecnici e la politica si trovano le soluzioni quale doveva essere a suo avviso quindi la soluzione per un debito che c'era nel rispetto della legge si potevano attuare altre soluzioni e non quelle di portare l'atari da 3 euro sotto la mia amministrazione a 10 euro si poteva spalmare in più anni si potevano applicare i ristori si potevano coinvolgere più categorie e con l'ex sindaco di Ribera Carmelo Pace abbiamo parlato anche di elezioni regionali e delle vicende che nei mesi scorsi lo avevano visto avvicinarsi alla Lega di Salvina senza che poi si sia formalizzata un'adesione al partito e l'intervista integrale andrà in onda oggi al termine del Tg nello speciale RMK Notizia e veniamo ai disservizi idrici a Sciacca in via Pietrecadute tra il quartiere di San Michele e il centro storico i residenti non ricevono acqua da più di otto giorni nonostante i solleciti e i richiami ad AICA da più di una settimana non viene effettuata l'erogazione idrica un disservizio non di poco conto per chi abita in zona visto che per la conformità delle abitazioni i serbatoi di riserva sono molto piccoli e ubicati in posti non raggiungibili dalle autobotti i cittadini non possono dunque nemmeno rivolgersi ai privati per acquistare l'acqua che invece pagano profumatamente in bolletta i residenti di via Pietrecadute non sanno più a che rivolgersi e attraverso questa segnalazione sperano che finalmente AICA provveda a garantire i turni previsti modifica momentanea alla viabilità cittadina nel centro storico di Sciacca domani mattina verranno effettuati alcuni lavori per la sistemazione della rete fognaria in piazza Marconi gli automobilisti provenienti dalla via Licata saranno pertanto costretti a svoltare per la via Gerardi in direzione Piazza Carmine e non potranno invece raggiungere Porta Palermo i lavori di sommo urgenza dureranno tra i due e tre giorni salvo imprevisti legati al meteo si chiude oggi dopo un mese dal suo lancio la colletta diocesana uniti per Ravanusa organizzata dalla Caritas Diocesana di Agrigento al fine di dimostrare la vicinanza alle famiglie delle vittime e i feriti del tragico evento di Ravanusa dell'11 dicembre scorso alla colletta hanno aderito 250 donatori fra privati e parrocchie ed è stata complessivamente raccolta la somma di 82.631 euro il fondo sarà integrato da risorse proprie della Caritas terminata la prima fase emergenziale che ha visto la gestione diretta da parte della protezione civile e delle istituzioni è adesso il tempo di pensare alla definizione degli interventi nei confronti delle famiglie direttamente coinvolte nel tragico evento ha dichiarato il direttore della Caritas Diocesana di Agrigento c'è una stretta collaborazione tra Caritas di Agrigento comunità ecclesiale di Ravanusa e il comune di Ravanusa al fine di evitare sovrapposizioni e sprechi due i tavoli di confronto già tenuti presso il comune per definire le modalità di spesa Torre anticorsara di Portopalo pericolante il circolo del Partito Democratico di Memphis si scaglia contro l'amministrazione Mauceri poiché nonostante le sollecitazioni ancora non si è intervenuti a mettere in sicurezza il bene storico monumentale architettonico edificato nel 1583 sentiamo il servizio una meraviglia tramontata nel dimenticatoio istituzionale così Ivan Barreca dirigente provinciale del PD coordinatore del Dipartimento Ambiente riguardo la torre di avvistamento anticorsara di Portopalo edificata nel 1583 insieme al segretario locale del partito Filippo Liberto Barreca evidenzia come la torre continua ad essere pericolante con il rischio che possa battersi al suolo da un momento all'altro e che con essa si possa perdere la memoria di 500 anni di storia a ridosso della stagione estiva il nostro territorio non può permettersi di rimanere in questo stato dicono Liberto e Barreca non è il biglietto da visita che abbiamo dato in questi anni non è quello che si aspettano le migliaia di presenze turistiche che da sempre si registrano non è quello che si augurano le attività ristorative e alberghiere già massacrate da due anni di pandemia non è quello che si aspettano i proprietari degli immobili resi inagibili dalla frana la torre simbolo del territorio sorge nel pianoro di Gurra di Mare e le pesanti piogge dello scorso inverno hanno provocato diverse frane che hanno interessato anche il terreno circostante l'appello ad interessarsi alla sua manutenzione è rivolta all'amministrazione comunale che secondo il PD non sarebbe stata incisiva nei confronti delle autorità interessate a salvaguardare il monumento progettando un intervento di messa in sicurezza in questi mesi il primo cittadino Marilena Mauceri ha più volte detto che sono in corso incontri tra i vari enti competenti per concertare l'intervento di messa in sicurezza della torre ma non si è ancora concretizzato nulla i cittadini sono stanchi dalle passerelle chiacchiere promesse concludono Barreca Liberto e chiedono all'amministrazione comunale spiegazioni sul perché ancora non sia stato effettuato alcun intervento ammonta ad un milione e mezzo di euro il contributo che la regione siciliana da due anni ha deciso di conferire alle piccole case editrici categoria che pur penalizzata dal covid non ha mai ricevuto un centesimo di ristori in quanto non ha annoverata tra quelle a cui attraverso i lockdown erano state imposte le chiusure contributo tuttora fermo e del quale una quarantina di editori hanno chiesto lo sblocco tra questi editori c'è anche il saccense Gianmarcaolino sentiamo il servizio sono una quarantina i piccoli editori siciliani che attendono ormai da due anni che il governo della regione sblocchi un milione e mezzo di euro di ristori per le categorie produttive colpite dalla pandemia categoria produttiva mai ufficialmente chiusa per lockdown ma che tuttavia ha pagato ugualmente come le altre il prezzo del virus nei giorni scorsi gli editori hanno sottoscritto un documento in cui chiedono alla regione di sbloccare il finanziamento in questione tra le ditte interessate anche la saccenza e Aulino l'attività editoriale non è stata chiusa in quanto non è un'attività diciamo così con affollamenti pubblico e cose varie per cui noi ufficialmente non siamo mai stati chiusi dal governo dai provvedimenti covid e di conseguenza non abbiamo avuto diritto ai ristori che dal governo conto in poi sono stati addati alle attività però il paradosso qual è? che le nostre attività si sono comunque fermate bloccate perché non potendo fare le presentazioni la distribuzione dei libri la conoscenza non potendo andare nelle scuole a presentare nuovi libri e praticamente non abbiamo fatto nulla siamo stati praticamente fermi a questo punto gli editori siciliani dico tutti quanti Ottavio Navarra in testa e poi a scendere diciamo tutti gli editori siciliani quantomeno quelli più anziani più grossi insomma si sono fatti carico di chiedere al governo regionale un ristoro per le nostre attività ci sono tutto il comparto è praticamente fermo dagli stampatori grafici gli operatori al computer poi naturalmente anche gli intellettuali che girano che gravano attorno a queste realtà editoriali si sono fatti carico di chiedere in finanziaria un provvedimento per avere qualche contributo per queste ditte il provvedimento è stato inserito in finanziaria siamo riusciti a farlo inserire grazie al governo grazie all'appoggio dell'opposizione diciamo che trasversalmente siamo riusciti a inserire questo provvedimento solo che dal 2020 a oggi il provvedimento non è più andato avanti noi non abbiamo ancora visto nulla di questi ristori il mondo dell'editoria liberale denuncia una situazione che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di molte realtà editoriali i tempi della macchina amministrativa regionale denunciano gli editori non sono i tempi di vita delle nostre imprese il perdurare di questa situazione concludono ha messo in crisi l'intera filiera del libro a rischio ci sono posti di lavoro la già fragile tenuta dei centri stampa e tanti collaboratori che con noi animano non solo un percorso culturale ma anche un indotto economico e il tempo delle risposte concludono gli editori abbiamo fatto anche diverse riunioni a Palermo con i funzionari regionali per problemi vari che avevano diciamo all'interno della burocrazia regionale per sistemare la faccenda in qualche modo aspettiamo da novembre scorso all'incirca diciamo l'attuazione di un provvedimento una sorta di bando regionale che ci consente di fare richieste e quindi finalmente di accedere a questi ristori tutto è fermo per il settore sarebbe un ristoro ma al tempo stesso la possibilità di permettere di ripartire in buona sostanza assolutamente sì perché torno a dire nonostante ci siamo sforzati di fare le cose indebitando le nostre attività compresa l'ultima manifestazione più grossa siciliana che è una marina di libri a Palermo per esempio dove anche noi siamo stati presenti però il contingentamento delle entrate la paura del covid le mascherine che obbligano le persone magari a non venire perché si stufano a tenere su la mascherina eccetera eccetera non ha dato ampissimi risultati i risultati sono stati buoni in generale ma non grandiosi per due settimane due fratelli tedeschi lavoreranno a Shack e Smart Working con le aziende di cui sono collaboratori è la prima esperienza resa possibile dal museo diffuso dei Cinque Sensi che punta decisamente anche su questa opportunità di valorizzazione del territorio vediamo in che modo nel servizio arrivano a Shack i primi smart workers persone che scelgono di lavorare a distanza in luoghi nuovi da conoscere e vivere è il caso di Carol e Max Mess due fratelli berlinesi web designer lei assistente finanziario lui che hanno scelto di trasferirsi da queste parti attratti dall'interesse dalla visibilità generata dal lavoro fatto dal museo diffuso dei Cinque Sensi possono stabilirsi a Shack perché il museo è stato indicato quale primo borgo marinaro d'Italia per Smart Working per due settimane abiteranno in una delle case vacanza che il museo diffuso dei Cinque Sensi è riuscito ad inserire su una piattaforma internazionale l'idea è quella vincente la stessa su cui si è parlato nei giorni scorsi e su cui si punta anche a Sambuca nell'ambito della recente iniziativa di Airbnb che ha deciso di mettere a disposizione gratis e per un anno una delle case un euro vendute dal comune e dai privati la finalità del progetto è chiara e punta ad attrarre persone che si fermano per mesi lavorando e vivendo da cittadini al pari dei Sacensi poi ci sono quelli che giungono per alcune settimane esercitando la propria professione al contempo vivendo le esperienze del luogo come cittadini temporanei tutti in ogni caso promuoveranno la nostra città e attireranno altre persone spiega Viviana Rizzuto presidente del museo diffuso dei Cinque Sensi di Sciacca prima è arrivata Carol che conoscendo i luoghi Sacensi è stata colta da grande entusiasmo chiamando poche ore dopo il fratello che si è precipitato anche lui a Sciacca da qui dai locali della sede del museo nello storico bastione cinquecentesco del Carmine i due lavoreranno e faranno quello che oggi giorno è possibile fare anche a distanza e a distanza considerevole verrebbe da dire lo faranno anche nelle prossime settimane oltretutto proprio con questo spirito e nell'ottica di una destagionalizzazione delle presenze a Sciacca si è mosso lo stesso museo in questi suoi mesi di attività ricercando partner in grado di intercettare questi flussi il nostro lavoro dice Viviana Rizzuto comincia a dare i suoi frutti e gli smart workers sono già una realtà in questi giorni usufruiscono delle strutture ricettive di ristorazione di incontro e svago proveranno le nostre experience gireranno per la città per apprezzarne arte storia tradizioni conosceranno il nostro artigianato tipico fa notare ancora la presidente del museo che chi sceglierà Sciacca per venire a lavorare smart working muoverà l'economia quotidiana così come una famiglia saccense che va al supermercato in macelleria in pescheria in un negozio di abbigliamento Carol e Max lavoreranno grazie alla rete internet ma al tempo stesso si integreranno con gli operatori della cooperativa identità e bellezza e con quanti si renderanno disponibili ad accogliere ed è in questo senso il messaggio alla città accogliere aiutare curare ciascuno il proprio spazio per rendere la città bella da vivere per svago e per lavoro Viviana Rizzuto promette che si continuerà in questa direzione a promuovere sciacca organizzando un'accoglienza di qualità e dal forte calore umano nel segno di quella ospitalità che nel DNA di esa scienza e che con la ricchezza e bellezza del nostro patrimonio è già il volano della città intanto continua la promozione di sciacca attraverso il museo dei cinque sensi a livello nazionale ieri è stata la volta di un servizio nel Tg2 delle ore 13 e adesso ci occupiamo di cinema il regista siciliano Francesco Larosa di origine catanese ha ricevuto il premio Solunto International un premio prestigioso che viene consegnato in tre paesi Francia Italia e Stati Uniti a tutte quelle personalità che si sono distinte nell'arte nel giornalismo nello spettacolo nella medicina nella ricerca scientifica nell'imprenditoria nella scrittura e quindi nella cinematografia si tratta del quarto riconoscimento dopo i tre premi istituzionali che il regista Etineo ha ricevuto il 25 ottobre scorso a Montecitorio per il cortometraggio Maledettissima tu per l'intervento tecnico nel film Umanamente Totò poi il comico e adesso vediamo quale è il libro che ci consiglia la Mondadori in una versione alternativa dell'America del 1893 New York fa parte degli stati liberi dove le persone possono vivere e amare chi vogliono o almeno così sembra il fragile e giovane rampollo di una famiglia illustre rifiuta il fidanzamento con un degno corteggiatore attratto da un affascinante insegnante di musica senza mezzi in una manattane del 1993 assediata dall'epidemia di AIDS un giovane huaiano vive con il partner molto più anziano e ricco nascondendo la sua infanzia travagliata e il destino del padre nel 2093 in un mondo lacerato dopo estilenza e governato da un regime totalitario la nipote di un potente scienziato cerca di affrontare la vita senza di lui e di risolvere il mistero delle sparizioni di suo marito ciò che unisce non solo i personaggi ma anche queste americhe è il loro venire a patti con quello che ci rende umani la paura l'amore la vergogna il bisogno la solitudine verso il paradiso è un meraviglioso esempio di tecnica letteraria ma soprattutto è un'opera geniale che affronta le nostre emozioni verso il paradiso di Ania Iana Giara edito Feltrinelli Calcio tre punti preziosi per l'unitas Schac che ha vinto di misure il derby agrigentino contro la Cragas Rete decisiva di Sant'Angelo nel secondo tempo grazie a questo successo i saccensi rimangono invariate le distanze rispetto alla zona play-out partita con poche emozioni e giocata su un campo in pessime condizioni c'è il servizio tre punti d'oro per l'unitas Schac che ha fatto suo il derby agrigentino contro la Cragas partita valevole come prima giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza dopo un mese di stop dovuto alla sosta notarizia e poi al rinvio a causa dell'impennata dei casi di positività al covid-19 le due squadre hanno dato vita ad una partita agonisticamente molto combattuta ma avara di emozioni e di occasioni da gol splendida la cornice di pubblico offerta dagli spalti dello stadio Gurrera con gli ultras che hanno preparato una coreografia molto colorata ed apprezzata mister salvatore Crivello ha messo in campo una formazione molto offensiva con Sant'Angelo e Galluzzo in attacco supportati dagli esterni offensivi Ido Iaga e Coco in difesa coppia centrale composta da Tummiolo e Ciancimino nella prima parte del match portieri poco impegnati e partita soprattutto equilibrata nel secondo tempo Coco e compagni hanno invece comandato la partita cercando in più occasioni la rete e non permettendo mai al quotato avversario di creare insidie alla propria porta la rete della vittoria è stata siglata al 67esimo minuto dall'ex Sant'Angelo sul colpo di testa scaturito da una bella azione dell'argentino Dagata schierato ieri come terzino sinistro un gol da grande centravanti poco prima era stato un ottimo intervento del portiere di casa D'Amico a sventare l'unica azione importante dei Biancazzurri ottima la prestazione di tutti i protagonisti con reparti equilibrati e quasi sempre in anticipo sulle azioni della squadra ospite tre punti importanti che permettono all'unitas e sciacca di portarsi a quota 22 con 5 lunghezze di vantaggio sulla zona pre-out e sulla parmonval ossia l'avversario è più vicina ancora imbattuto finora mister Crivello da quando guida i neroverdi con due pareggi ed una vittoria prossima sfida per l'unitas in trasferta sul difficile campo dell'enna calcio in classifica in testa rimane il Canicattì con 36 punti e 5 punti di vantaggio sul Don Carlo Misilmeri a seguire in zona play-off Acragas Nissa e Mazzarese i ragazzi sono stati perfetti non abbiamo rischiato nulla abbiamo messo in campo quello che avevamo preparato durante la settimana così il tecnico dell'unitas sciacca Salvo Crivello al termine dell'incontro vinto contro l'Acragas per l'allenatore dei Biancoazzurri Giuseppe Anastasi lo sciacca ha vinto con merito su di un campo di patate sentiamo complimenti intanto per noi ragazzi che sono stati 25 giorni a fare dei sacrifici enormi si sono allenati senza mollare un attimo e oggi hanno coronato questo impegno forte vincendo la partita che tra l'altro ricordo che è un derby che è una partita a sé molto sentita nella provincia di Agrigento i ragazzi sono stati perfetti hanno sono partiti col piede giusto senza rischiare nulla la prima frazione di gioco non è stata entusiasmante perché le due squadre si studiavano entrambi e poi diciamo siamo venuti fuori giocando noi sulla ripartenza loro cioè loro una squadra molto preparata una squadra forte che gioca molto al calcio e noi abbiamo giocato sui spazi che ci lasciavano alle spalle dei difensori una partita molto intensa è maschia più che cattiva perché da tutte e due le parti c'era voglia di vincere considerando sempre che è un derby quindi ci sta che ci sono degli scontri però devo dire che in campo sia da una parte che dall'altra c'erano ripetute scuse ma il calcio moderno ci insegna che un calciatore può fare più ruoli a causa delle assenze di quattro elementi importanti ci siamo sacrificati e devo dire che chi è subentrato e chi da parecchio tempo non giocava è stato veramente bravo nello specifico di Bassi devo dire che è stato grandioso secondo me innanzitutto lo Schalke ha vinto una partita meritatamente quindi deve dare atto che una squadra che ha vinto meritatamente ripeto perché abbiamo affrontato ci sono affrontate due squadre a viso aperto due squadre che hanno lottato ma dove non c'è stato tra virgolette parate importanti da parte di tutti e due i portieri abbiamo avuto un'occasione noi dove il portiere loro è stato bravo hanno fatto un'occasione loro hanno fatto col però questo si deve dare atto che lo Schalke ha vinto quindi non ci possiamo nascondere dietro un dito per quanto riguarda i nuovi rinforzi forse in campo non se ne è accorto ma ce n'era soltanto uno quindi in questo momento anche se quelli che hanno giocato io ho molta fiducia purtroppo per un motivo o per un altro in questo momento le cose non stanno andando nel verso giusto ne prendiamo atto e sappiamo che dobbiamo lavorare più di prima beh il mister mi ha messo in questo nuovo ruolo però sono a disposizione della squadra e del mister e qualsiasi ruolo c'è da giocare sono a disposizione e metto in sacrificio per la squadra e quindi va bene descrivi il gol brevemente beh è stata una bellissima emozione felice del gol e della vittoria perché ecco da morale e te l'ha dato Idoiaga la palla no me l'ha data Nicolás ah Dagata no Dagata perché poco fa l'ho chiesto infatti pensavo che era stato Idoiaga invece è stato infatti l'ho ringraziato perché ha messo una bellissima palla a prescindere poi dico era una vittoria importante che dà fiducia all'ambiente a noi stessi che ci fa lavorare con serenità perché il nostro obiettivo è la salvezza quindi con i piedi per terra e l'umiltà i risultati penso che li porteremo a casa termina qui questa edizione ancora una volta grazie per essere stati con noi appuntamento alle prossime grazie a tutti